Ormai ci siamo. Poco più di una settimana e quasi 25.000 studenti della provincia dovranno ritornare sui banchi, anche se per alcuni di loro il rientro è stato anticipato per poter recuperare i debiti formativi. Tirando le somme, la maggior parte dei ragazzi è riuscito a saldare le insufficienze, anche se in alcuni istituti del capoluogo provinciale non tutti ce l'hanno fatta. Poco meno del 5% degli studenti indebitati di liceo scientifico Dono Egani non ha superato l'esame di riparazione. Percentuale che sale al 7% se passiamo all'Itis Mattei. Passando invece allo scientifico Pio XII, tutti promossi i 23 diceali che avevano i debiti da saldare mentre al piazzi i Perpenti, il 3% non è riuscito a recuperare le lacune e dovrà di conseguenza ripetere l'anno. Dalle 24 di mercoledì sono state rese note anche le cattedre dei professori. Con la legge 107 del governo Renzi, infatti, erano stati resi disponibili 16.120 posti contro i 71.000 precari nazionali. Sono stati numerosi i valterinesi che hanno fatto domanda per i 129 posti disponibili sul nostro territorio, dove circa un centinaio sono stati coperti. Passando gli istituti scolastici, nel panorama provinciale nessun plesso è rimasto senza dirigente, con alcuni costretti anche a doppio incarico. Situazione invece meno felice per quanto riguarda i posti di sostegno, con 29 cattedre ancora da assegnare. Ad ogni modo, è quasi tutto pronto per il suono della campanella, squillo, che i bimbi delle scuole dell'infanzia sentiranno già lunedì mattina, dato che per loro il rientro avviene con una settimana d'anticipo.